Fabio Panichella, domani scenderete in campo a Mirabello per l'evento Frammenti di Luce Uniti per Donare un Sorriso. Si tratta di un evento ideato per devolvere fondi al reparto di unco-ematologia del Bambin Gesù di Roma. Cosa vi ha spinto a partecipare a questo evento, a questo quadrangolare? Sicuramente la nobile causa. Poi è una giornata ricca di sport e musica e può solo significare tantissime emozioni. E voi non potevate mancare. Quali sono le altre squadre coinvolte oltre alla vostra, quella del calcio cavallo? E soprattutto non si tratta, come anticipavi, soltanto di un evento dedicato allo sport. Che altre occasioni di divertimento ci saranno? Allora, le squadre c'è la Terzo Tempo Campobasso, che è una delle promotrici dell'evento, Fiamma Ielzi, la Scuola Calcio Mirabello e noi del Calcio Cavallo. La giornata sarà composta da un torneo, quindi da un quadrangolare nel pomeriggio. Durante questo torneo vi saranno varie attività, quali musica, regaleremo dei gadget, ci saranno prodotti enogastronomici. Insomma, cercheremo di rendere la giornata anche divertendoci senza dimenticare, insomma, lo scopo, quella di essere insieme e contribuire a una raccolta fondi per la fondazione Hollus del Bambi in Gesù di Roma. Non è la prima volta che voi del Calcio Cavallo partecipate ad iniziative del genere e cercate di farlo sempre con lo scopo di portare il sorriso? È la goleardia che ci caratterizza in questi eventi. Noi con sorriso, con simpatia, organizziamo e partecipiamo a questi eventi benefici, portando lo sport, portando l'enogastronomia molisana, quindi è il miglior modo per coinvolgere il maggior numero di persone.